La regina Elisabetta spegne la novantesima candelina di una vita trascorsa fra guerre, crisi, scandali, dispiacere e splendori. Un bagno di folla per la sovrana, anche se i festeggiamenti sono solo all'inizio. È consuetudine infatti che celebri due volte il compleanno, il 21 aprile, la data di nascita, e il secondo weekend di giugno, un'occasione della storica parata militare la cui tradizione si rinnova ogni anno dal 1820. A rendere omaggio alla regina, con tono solenne, anche il principe Carlo. Maestà, mamma, la luce che sua maestà è in procinto di illuminare simboleggia la luce che con l'amore e affetto arriva da tutta la nazione, dal Commonwealth. La regina Elisabetta, oltre alla longevità, batte anche il record della sovrana che ha regnato più a lungo al mondo.